Consigliere Mariani, nei giorni scorsi la giunta regionale ha approvato la richiesta dell'ASST di Monza di trasformare l'ospedale San Gerardo in un centro anche di cura scientifica. Questa cosa comporta? È una bellissima cosa, la regione Lombardia per questo atto ha tutta la mia stima. L'istituto di ricerca scientifica significa avere una completa autonomia da parte di quello che è l'attuale ospedale San Gerardo che è già un centro di ricerca, è già un centro di alta specializzazione in varie specialità mediche e di conseguenza è un passo avanti molto importante ma non solo per San Gerardo, per l'abrianza ma vista l'importanza della ricerca in quella che è la medicina e la scienza moderna è un passo avanti, tra virgolette, spero per tanti insomma. Ecco, infatti si sta anche sperimentando per quanto riguarda la Covid. È uno dei centri che sta lavorando anche in questa direzione, dopodiché queste sono ricerche, sono progetti, sono, speriamo, risultati che in genere derivano dal lavoro di vari centri, ce ne sono in Italia, in Europa, nel mondo, dopodiché speriamo che si arrivi in fretta a una soluzione di questo tipo. Ecco, ma attualmente qual è la specializzazione maggiore di questo ospedale? Beh, oddio, sono tanti, i punti d'eccellenza sono tanti, francamente citarne qualcuno si rischia di dimenticare altri e di essere, diciamo così, indelicati, però l'ospedale di Monza da tantissimi anni è un ospedale di grandissimo livello, non solo italiano ma sicuramente a livello europeo, sicuramente a livello europeo.